Siamo notati Gesù Maria, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, ci introduce perfettamente a qualche breve considerazione sul santo di oggi. Il Vangelo, oggi il 26 maggio, è la memoria di San Filippone, sacerdote, un grande sacerdote del XVI secolo, fondatore dell'Oratorio, passato appunto alla storia come uno dei santi della gioia. Abbiamo sentito Gesù nel Vangelo parlare di pianto e di tristezza che si cambia in gioia, è evidente che lui fa riferimento all'imminezza della sua passione che avrebbe messo nel pianto e nella tristezza tutti i suoi discepoli e poi alla gioia che avrebbe avuto nel vederlo risorto, sullezioni che stiamo celebrando ormai da 40 giorni, gioia che non si sarebbe più potuta in nessun modo togliere dal cuore dei discepoli. E questo ci dice qualcosa della gioia cristiana che San Filipponelli ha vissuto e di cui è stato interpete. La gioia che deve caratterizzare, ne parla continuamente anche il Papa, la vita dei figli di Dio, da dove viene la gioia cristiana? La gioia cristiana passa attraverso la cruce, passa attraverso un primo momento di tristezza. Già ho raccontato qui la sermoneta che come San Francesco descriveva il momento della sua conversione quando fa gioia rosso. Da quel momento tutto quello che era dolce divenne amaro e tutto quello che era amaro divenne dolce. Quindi attraverso, passare per questa grande sofferenza, per noi di abbracciare chi completamente gli ripugnava e che era l'immagine di Cristo Crucifisso, ha trovato la gioia. Vi sapete che dobbiamo avere molta attenzione perché nel mondo in cui viviamo tutti sembrano essere felici e contenti, tutti, sembrano essere felici e contenti. Ma non si tratta della gioia che viene dal Signore, ecco, espressa magnificamente in un canto di Monsignor Fisina, che non dimenticherò mai, è il canto di ingresso, il coro ha fatto al mio ingresso qui, penso che sarò grato a vita, la vera gioia lascia dall'amore, non consuma il cuore, eccetera. Il mondo scambia la gioia con il piacere e con il divertimento, quindi uno è gioioso quanto più si dà a tutti i piaceri possibili e quanto più si diverte. Il problema è che molti, sappiamo, interpreti grandi uomini e donne del mondo, tutto sono un numero che persone felici e questo non si vede soltanto dal fatto che ogni tanto emerge qualche drammatico evento di cronaca, non ultimo, purtroppo qualche suicidio eccellente di questi grandi personaggi o superstar del mondo dello spettacolo o della musica, ma anche dalla considerazione di quella che era la vita. Noi, figli di Dio, ci rallegramo, dice San Paolo, nel Signore. Quindi passando attraverso la tristezza, la tristezza che viene dalla tristezza secondo Dio, dice San Paolo, è quella che fondamentalmente fa compiere questi due atti religiosi. Numero uno, la presa di coscienza della nostra miseria e del fatto che i nostri peccati hanno veramente ucciso Gesù e la seconda forma di tristezza, la compassione per le sofferenze che Gesù ha dovuto soffrire per la nostra salvezza. Questo produce un profondo rinnovamento di un cuore e l'ingresso dell'autentica vita della grazia dentro di noi e questo porta sempre tre forze, la gioia, la pace e l'amore. Voi sapete che San Filippo ne è lì, i mori erano tolti, erano una lontina volta che sono stato non c'erano più, una volta erano esposte. San Filippo ne è un talmente grande amore verso il nostro Signore che gli prendeva realmente fuoco il cuore. Ma sapete che significa fuoco? Cioè c'erano le costruite nelle sue stanze, le camicie che portava sotto, che c'erano un buon nero e mezzo grosso così. Io l'ho vista in tanti anni fa. Quando morì San Filippo ne è iniziava le costole qui sotto, quelle cardiache, incrinate, spostate, perché il cuore era talmente pieno d'amore che gli hanno fatto spostare le costruite. Quando San Filippo ne è che celebrava la messa, e chi se lamenta che a volte le ha messo troppo, lui metteva un cartello fuori dalla porta, diceva il padre sta cercando. Quando si chiudiva quella porta poi è stato tranquillo che non saprei a prima che passassero due ore. Soprattutto per un particolare, perché quando lui faceva la comunione, aveva il dono mistico da Dio che quando viveva al calice sentiva il sapore del sangue, e quindi per fare una comunione al calice ci metteva almeno mezz'ora. Capite che sentire il sapore del sangue di Gesù, che uno si dice mamma mia, non è come se fosse, capite, chi l'ha vissuto, i rari casi che l'ha vissuto dicono che si sperimentano delle dolcezze della sua vita e non sono descrivibili con parole umane, che tra poco comincia in un'esercizio del Sacro Cuore, avremo modo di parlare, perché quello che visse Santa Margarita Maria da Cocca, lo sapete che Gesù se l'è tenuta per un'una, la testa sul petto, labbra aperte sulla ferita aperta del costato, non tendono proprio dall'unico del sangue fuoriuscente da quella ferita, questa è tutta una cosa che riguarda Santa Margarita Maria. Ecco, quindi, l'amore verso Gesù è una vera sintesi, c'è una vera gioia, in altre parole nasce dall'accoglienza profonda dell'amore di Gesù, dal capire quello che ha fatto per noi e perché lo ha fatto, dall'accoglio all'obbiettare di cambiare. Quanto sono, vi dice, tanto quanto amo Gesù e la Madonna, quanto sono non nella gioia, tanto quanto non amo Gesù e Maria. Questo è il messaggio che ci lasciano questi grandi santi e questo è il messaggio che ci lasciano anche la Pasqua di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo lodati.